Una buona giornata ed un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 ricordiamo che sono chiuse le corsie di destra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci con la conseguente chiusura dello svincolo di Firenze imprunita in direzione Bologna. Sul tratto potrebbero crearsi disagi alla circolazione. Sulla Fibili per lavori un chilometro di coda tra Ginestra e Lastra in direzione Firenze. Rallentamenti sulla carreggiata opposta in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze imprunita. La viabilità cittadina a Firenze per lavori di messa in sicurezza di un attraversamento pedonale in via Forlanini in corrispondenza con via di Novoli. Ci sono restringimenti di carreggiata. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!